Non è una domenica come tante per Cerignola questa mattina. Dopo la notizia del declassamento da parte del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, la città di Cerignola si è mobilitata. Stamane ci sarà un raduno che partirà dalle 8.45 dall'ex tribunale dove ci stiamo recando fino all'ospedale. Un sit-in di protesta partito via Facebook che ha coinvolto tutte le associazioni operanti sul territorio e anche semplici cittadini. Dopo la perdita del tribunale adesso si corre seriamente il rischio che l'ospedale Tatarella possa essere declassato da ospedale di primo livello di base, conseguentemente anche con la chiusura di molti reparti.